Se siete appassionati di calcio e cercate un modo per guadagnare con questa passione, guardate questo video fino alla fine perché oggi ho deciso di presentarvi SoReir, un play to earn dedicato agli amanti del calcio, cioè un gioco online con il quale è possibile guadagnare soldi giocando. Su SoReir avrete infatti la possibilità di creare la vostra squadra, acquistare e vendere giocatori reali e poi partecipare a delle competizioni settimanali basate sulle partite giocate nei vari campionati di tutto il mondo, grazie alle quali è possibile vincere premi in denaro o nuovi giocatori da utilizzare nelle prossime competizioni o rivendere sul mercato. In questo video vedremo come funziona nel dettaglio questo play to earn, quali sono i metodi per guadagnare giocando a SoReir e come sta andando la mia squadra. Prima di iniziare però vi chiedo subito di lasciare un bel like per supportare il canale e se volete iscrivervi gratuitamente a SoReir per iniziare a vedere come funziona, vi lascio in descrizione il mio link referral che come vedremo tra poco vi farò ottenere la vostra prima carta limited in regalo. Ad esempio io all'iscrizione ho ricevuto in regalo questa carta di Brooks Lennon che ho poi rivenduto per 7 euro e 35 centesimi. Come abbiamo detto SoReir è un play to earn quindi è possibile guadagnare soldi giocando e la valuta sulla quale si basa il gioco è Ethereum, anche se è possibile impostare l'euro come valuta di riferimento se non si vuole avere a che fare con la volatilità delle cripto. Ogni carta presente su SoReir è un NFT cioè un token univoco su rete Ethereum e in quanto tale può essere anche spostato in un wallet esterno al gioco. Le carte giocatore su SoReir possono avere 5 livelli di scarsità che ne definiscono la quantità totale presente nel gioco e di conseguenza il prezzo. Il livello base è quello delle carte common che vengono fornite al momento dell'iscrizione a chiunque in maniera gratuita e con le quali si può iniziare a giocare da subito senza investire un solo euro nel gioco. Le carte common sono chiaramente illimitate ma proprio per questo motivo non possono essere rivendute ma solamente usate nelle competizioni come vedremo tra poco. Gli altri quattro livelli sono invece quelli delle card che hanno un numero limitato di copie e possono quindi essere comprate e vendute all'interno del gioco. In particolare al livello limited abbiamo 1000 copie per ogni giocatore, al livello raro 100 copie, 10 copie al livello super raro e infine esiste per ogni giocatore una sola carta di livello unico. E questo è il motivo per cui quell'unica carta di Cristiano Ronaldo è attualmente in vendita per oltre 1 milione e 200 mila euro. Possiamo ottenere nuove carte all'interno del gioco in 5 diversi modi. Il primo metodo, che se vogliamo è anche l'unico almeno indirettamente gratuito, è piazzandosi all'interno delle competizioni settimanali in posizioni che danno diritto ad un premio. Il secondo metodo è vincendo un'asta per una delle nuove card che ogni giorno vengono messe sul mercato. Si può poi partecipare ad un'asta per un pacchetto di 5 carte giocatori, dove chi vince l'asta con l'offerta più alta si aggiudica tutte e 5 le carte contenute nel pacchetto. Il quarto metodo è acquistando un giocatore venduto da un altro manager al prezzo che quest'ultimo ha stabilito per la vendita. Infine è possibile proporre un'offerta di scambio ad un altro manager proponendo i propri giocatori o denaro in cambio del giocatore che vogliamo ricevere. Ora che abbiamo visto come è possibile comprare e vendere giocatori per creare e migliorare la propria squadra, vediamo come funzionano le competizioni e come possiamo sfruttarle per guadagnare. Ogni quattro giorni infatti vengono proposte nuove competizioni basate sulle partite reali che si giocano nei vari campionati del mondo, alle quali possiamo iscrivere i nostri giocatori. Ogni squadra è composta da un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante e un quinto giocatore a scelta tra quelli di movimento. E ogni competizione ha delle regole che definiscono quali giocatori possono partecipare. Per i manager più esperti esistono competizioni in cui è possibile vincere anche diverse migliaia di euro in premio. Ma per chi vuole iniziare a giocare senza investire un singolo euro c'è il campionato casual dove possono essere iscritti solo giocatori gratuiti e in cui tutti vincono almeno un premio e i primi 100 una card limited. Da pochi giorni c'è anche il campionato academy che si può giocare anche con sole carte gratuite e dove chiunque vince almeno un premio ma facendo più di 360 punti si ottiene una carta limited. Quindi è possibile effettivamente iniziare a giocare e guadagnare soldi vincendo carte anche senza investire un singolo euro. Ma per chi vuole iniziare da subito a partecipare alle competizioni più interessanti e collezionare NFT che possono poi essere rivenduti a prezzi più alti è possibile caricare il proprio account sia con carta di credito bonifico sia collegando un wallet ethereum come ad esempio Metamask. Per iniziare ad esempio a giocare con le carte limited che sono quelle che costano meno. Inoltre come vi ho detto poco fa iscrivendovi col mio link referral potete ottenere una carta limited in regalo dopo aver vinto le vostre prime 5 aste. Quindi date un'occhiata al link in descrizione prima di iscrivervi o andate direttamente all'indirizzo sorare.com slash r slash christian laurini. A questo punto vediamo un po' cosa ho fatto io in queste prime settimane di sorare come è composta attualmente la mia squadra e se sto guadagnando. Ho iniziato a giocare con 300 euro per poi arrivare ad un capitale totale di 1000 euro e attualmente nella mia rosa ho un totale di 18 carte common e 83 limited. Attualmente la mia rosa vale circa 1060 euro con un guadagno netto quindi di circa 60 euro e il giocatore col valore più alto è il portiere americano Drake Calendar che si trova sul mercato attualmente a non meno di 102 euro. Mentre il miglior affare finora l'ho fatto con Ivor Pandur che avevo comprato a 21 euro e ho poi rivenduto a 101 euro e 90 centesimi con un guadagno di oltre 80 euro. Se volete vedere nel dettaglio come evolve il mio team potete ricercarmi col mio nome e cognome e anche seguirmi ma sicuramente in futuro farò altri video aggiornamenti su Sorare e su come sta andando il mio investimento in questo gioco. Per adesso questo video si conclude qui nel frattempo fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Sorare e vi ricordo ancora una volta che se volete provare il gioco potete iscrivervi dal link che vi lascio in descrizione per ottenere una carta limited in regalo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i futuri aggiornamenti e noi ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Grazie a tutti.